Ciao a tutti ragazzi, sono Giuseppe, questa sera sono in compagnia di Yuri e Miki Sensei Questa sera Miki resterà per me a casa nostra e ci ha portato questo gratta e vinci In realtà sono tre, uno per me, uno per lui e per se stessa Posso stop making noise when I'm speaking? Ah, come, come? Ok, voglio dire, porca m***a Sto registrando i miei video, magari vinco il primo premio e poi questa farlo E quindi è la prima volta che gratta un gratta e vinci qua in Giappone E lo faremo prima io, probabilmente poi Yuri e poi lei, Miki Io mi sento abbastanza fortunato, sono sicuro che vincerò il primo o il secondo premio Che consiste in 30.000 euro circa il primo premio 500 euro circa il secondo 100 euro il terzo 10 euro il quarto 2 euro il quinto O niente, o semplicemente non si vince Possiamo grattare dallo start fino al goal E se escono per tre volte di fila i simboli che ci sono qua sulla destra Allora si vince quel premio Andiamo a grattare insieme Andiamo a grattare insieme Anche perché sennò è il motivo per la quale starete tenendo questo video Io penso che tu sia un grande talento Io mi alzo Se esce un altro croissant si vince 10 euro ragazzi 10 euro poi qui c'è ovviamente 30.000 euro Non c'è il croissant Però c'è, c'è, aspetta C'è il teschio nero Teschio nero è il primo Esatto Il teschio nero è il teschio nero Il teschio nero è il teschio nero Il teschio nero è il teschio nero 300 euro Sì, abastagabumadoro Attenzione alle stelle, amici da casa E non ci siamo Non lo so Cos'è un tempio Poco a poco, poco a poco, poco a poco Sì, va bene Ma qua ci prendono in giro Eh, voglio dire Mi sento preso un po' per il culo, ok? Ok Eh, hai da che no La balena Di questo gran catio Eh, eh Intanto, Mickey, si è andato in bagno così Prezzo All'improvviso Andiamo per i 2 euro E ci sono gli orecchini Ah, shit Here we go again La balena La balena 2 euro Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Il vestito Ok, ok, un attimo Un attimo Guarda Ma quando si è arrivata, si prenderà un po' di wine Quindi... Non abbiamo vinto Youtubers sono scum Secondo me lei è così ubriaca in questo momento Che anche se dovessi vincere 30 mila euro Sarebbe normale, non le fregerebbe niente Miki-san è un dolore Non c'era un dolore Tu... Va bene dai 200 mila, anche qui Du bale